buonasera a tutte ragazze ieri ho presentato la mia canotta multicolor che ho realizzato con il filato happy maldive per me per la mia taglia è bastata una cake però per taglie superiori alla mia con due che che potete realizzare una guarda una 48 a una 50 comodamente mentre per tagli inferiori alla mia vi basta una cake queste che sono da 150 grammi per 560 metri quindi di conseguenza hanno un ottimo metraggio la casa consiglia uncinetto 3 e mezzo 4 ma io tutto il progetto l'ho realizzato con l'uncinetto del numero 3 è un 97 per cento cotone un 3 per cento poliestere io questo filato l'ho acquistato da merceria flavia poi vi lascio in descrizione il nome del sito dove voi potete andare e vedere anche altri colori perché ci sono anche altre sfumature la sfumatura del viola dell'arancio ci sono svariati colori e questo questo top io c'è questo punto del della canotta l'ho preso l'ho scaricato da internet è un motivo molto semplice che già trovate sulla mia pagina la casa dell'uncinetto allora questa maglia per realizzare questa canotta scusate io ho avviato 156 catenelle che mi equivale a 12 motivi ma se voi volete uno scollo più ampio avvia potete avviare più catenelle però tenendo sempre conto che il multiplo del motivo è di 13 poi per me per lo scalfo diciamo nella manica io ho aggiunto 26 catenelle e in totale già ho aggiunto tre motivi quindi 13 13 13 per un totale di 39 catenelle quindi a secondo la misura che vi occorre aggiungete dei multipli io l'ho lavorato tutto con l'uncinetto del numero 3 sotto diciamo la il braccio per lo scalfo io nella parte che va sotto la scella l'ho lavorata a punto alto ho fatto un giro di punto alto e un giro di punto alto e poi ho cercato di riprendere il motivo per allargare diciamo questo punto potete fare come ho fatto io adesso ve lo spiego praticamente gli aumenti per allargare ammorbidire il progetto anche perché questa canotta potrebbe diventare benissimo un copricostume basta andare avanti con i giri io gli aumenti all'aumento che è servito a me e comunque se dovesse servire anche a voi andate ad aumentare nel punto v nel punto v del motivo invece di fare una maglia alta una catenella una maglia alta farete due maglie alte una catenella 2 maglie alte e andate avanti se vi occorre aumentare ancora scendendo ne farete tre una catenella di separazione e 3 maglie alte così non andate ad intaccare il disegno nel punto io adesso ve lo faccio vedere su un campioncino come si sviluppa e poi potrete andare avanti da sole come ripeto questa può essere una canotta come per me e può essere benissimo un copricostume andando avanti fin sopra il ginocchio o anche più lungo però per fare un copricostume dovreste dovrete acquistare due cake in più per ogni taglia in più detto questo iniziamo con il punto allora io nel nel campione ho avviato praticamente quattro motivi per farvi vedere ci mettiamo lo schema così così potete fare lo screenshot se volete allora fa avviati i vostri multipli ossia le vostre catenelle come ripeto io per il mio per la mia canotta ne ho avviati 156 chiudiamo in cerchio con una maglia bassissima quando si lavora in cerchio non c'è bisogno della delle maglie per girare quindi praticamente dovete rispettare soltanto il multiplo di 13 quindi in questo caso che cosa faccio io abbiamo chiuso con una maglia bassissima spostiamo un attimino così mi vedete meglio con una maglia bassissima ci alziamo con una catenella rientriamo nello stesso punto e facciamo la maglia bassa poi dobbiamo fare 5 catenelle quindi una due tre quattro e cinque carichiamo il filo contiamo così una due tre quattro nella quinta scusate una due tre quattro se nella quinta il punto v quindi carichiamo il filo contiamo una due tre quattro nella quinta il punto v quindi maglia alta catenella e mai alta poi ripetiamo 5 catenelle 3 4 e 5 saltiamo sempre quattro punti di base quindi 1 2 3 4 nel quinto facciamo la maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 saltiamo due punti di base nella terza punto basso 1 2 3 4 e 5 saltiamo quattro punti di base e nella quinta facciamo il punto v quindi carichiamo il filo 1 2 3 4 nella quinta il punto v in questo modo una catenella rientriamo maglia alta così 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 saltiamo quattro punti di base 1 2 3 4 nel quinto punto basso 2 catenelle saltiamo due punti nel terzo punto basso 1 2 3 4 5 saltiamo quattro punti di base quindi carichiamo il filo saltiamo 1 2 3 4 nel quinto 1 2 3 4 nel quinto facciamo il punto v 2 una catenella rientriamo punto alto 1 2 3 4 e 5 5 saltiamo sempre quattro punti di base quindi 1 2 3 4 e nel quinto facciamo la maglia abbassa 2 catenelle 2 catenelle saltiamo due punti nel terzo punto basso 1 2 3 4 e 5 5 5 carichiamo il filo saltiamo 4 punti di base quindi 1 2 3 4 nel quinto 1 2 3 4 e 5 saltiamo quattro punti di base quindi 1 2 3 4 nel quinto facciamo la maglia abbassa 2 catenelle e andiamo ad agganciarci sulla prima maglia bassa che abbiamo fatto con una maglia bassissima e abbiamo fatto il primo giro spostiamo un attimino abbiamo fatto il primo giro adesso dobbiamo fare il secondo giro il secondo giro ci troviamo sulla maglia bassa camminiamo con delle maglie bassissime qui camminiamo così maglia bassissima e ci portiamo al centro del punto v così maglia bassissima maglia bassissima fino ad arrivare al centro del punto v quindi con tutte maglie bassissime in questo modo vediamo un po di filo in questo modo arrivati al centro entriamo con una maglia bassissima ci alziamo con 3 catenelle che la nostra prima maglia alta più una di separazione rientriamo e facciamo la seconda maglia alta e abbiamo ripetuto il punto v adesso 2 catenelle e nell'archetto delle due ma delle due catenelle andiamo a fare cinque maglie alte separate da una catenella quindi prima maglia alta quindi una catenella seconda maglia alta catenella terza maglia alta catenella quarta maglia alta catenella e quinta maglia alta 2 catenelle e ripetiamo il punto v e facciamo questo per tutto il giro quindi ci rivediamo a fine giro abbiamo terminato il secondo giro abbiamo fatto le ultime due catenelle ci chiudiamo sulla terza delle 3 catenelle del punto v e in questo modo siamo pronti per partire con il terzo giro con il terzo giro ci portiamo al centro del punto v e ripetiamo 3 catenelle che la nostra prima maglia alta più una di separazione rientriamo e facciamo la seconda maglia alta adesso che cosa facciamo carichiamo il filo andiamo sulla prima maglia del ventaglio e facciamo una maglia alta 2 catenelle carichiamo il filo e maglia alta su maglia alta 2 catenelle andiamo sulla maglia alta e lavoriamo la maglia alta 2 catenelle andiamo sulla maglia alta e lavoriamo la maglia alta 2 catenelle e lavoriamo la maglia alta in questo modo e abbiamo lavorato il ventaglio abbiamo sempre 5 maglie alte ma separate da 2 catenelle poi andiamo nel punto v e ripetiamo il punto v e facciamo questo fino a fine giro quindi ci rivediamo a fine giro abbiamo terminato il terzo giro andiamo sempre ad agganciarci sulla terza delle 3 catenelle della prima maglia per gli aumenti io nella mia canotta ho lavorato sui sui punti v nel senso ad un certo punto per allargare ho fatto anziché un punto alto una catenella e un punto alto ho fatto due punti alti una catenella due punti alti ma si può giocare anche con le catenelle perché perché in questo caso noi nel terzo e quarto giro non abbiamo catenelle quindi se c'è bisogno di fare ulteriori aumenti anche se voi avete aumentato facendo due maglie alte una catenella e due maglie alte potete aggiungere una catenella di separazione sulla destra una catenella di separazione sulla sinistra quindi potrete potrete giostrarvi anche le catenelle tra il punto v e il motivo adesso facciamo un ultimo giro e poi si inizi riparte dal primo quindi adesso camminiamo con una maglia bassissima e ci portiamo al centro sempre con la maglia bassissima ci alziamo con 3 catenelle 23 più una di separazione 4 rientriamo e facciamo il maglia alta adesso in ogni spazio di 2 catenelle faremo 4 maglie alte quindi carichiamo il filo andiamo nell'archettino delle due maglie alte e facciamo e delle si delle due maglie alte facciamo quattro maglie alte quindi una due tre e quattro e così via e nel punto v ripetiamo il punto v quindi ci vediamo a fine giro per farvi vedere come ripartire dal primo abbiamo terminato il giro ci agganciamo sempre sulla terza delle tre catenelle con una maglia bassissima e abbiamo terminato così il nostro motivo ve lo faccio vedere così quindi questo è il nostro motivo completo quindi vedere è molto semplice adesso vi faccio vedere come ripartire e poi potete andare avanti da sole allora ripartiamo dal primo giro quindi ripartiamo da qui con una maglia bassissima ci portiamo al centro della v e ripetiamo le 3 catenelle che è sempre la nostra prima maglia alta più una catenella che è di separazione poi facciamo 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 adesso dobbiamo montare le maglie alte quindi saltiamo 1 2 3 4 5 6 nella settima maglia bassa quindi saltiamo 1 2 3 4 5 6 7 maglia bassa 2 catenelle saltiamo 1 e 2 nel terzo punto basso poi facciamo 5 catenelle 3 4 e 5 prendiamo un po di filo 5 catenelle andiamo nel nel punto v e rivediamo il punto v quindi maglia alta catenella maglia alta 5 catenelle 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 nella settima maglia bassa 2 catenelle saltiamo due punti nella terza punto basso quindi 5 catenelle 4 e 5 quindi 5 catenelle 4 e 5 andiamo nel punto v e rivediamo il punto v quindi una catenella e seconda maglia alta 1 1 2 3 4 e 5 1 2 3 4 5 6 nel settimo punto maglia bassa 2 catenelle saltiamo due punti nel terzo punto basso 2 5 catenelle 5 catenelle 4 e 5 andiamo nel punto v e rivediamo il punto v quindi agli alta catenelle 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 e maglia alta così quindi fate questo per tutto il giro quindi abbiamo fatto le ultime 5 catenenelle ci agganciamo sulla terza delle tre e chiudiamo una maglia bassissima e si riparte quindi il progetto è tutto si svolge su questi quattro giri che vi ho fatto vedere io sul mio progetto ho praticamente lasciato tre ventagli grandi avanti come potete vedere tre ventagli tre ventagli per la spalla tre ventagli sul retro e tre ventagli nell'altra spallina sotto io ho messo i marcapunti prendendo i 20 diciamo la costante il punto v e da un punto a v all'altro ho avviato praticamente tre multipli perché per me servivano le multipli ho lavorato due giri di punti alti e poi sono ripartita con il motivo io come avete visto nell'anteprima l'ho fatta che mi arriva sul primo fianco ma come ripeto voi questo progetto può essere sviluppato tranquillamente come copri costume detto questo mi auguro che sia stata abbastanza chiara nella spiegazione perché il punto è molto semplice e la struttura anche ringrazio le persone che mi seguono e che si sono iscritte al mio canale e tutte le indicazioni per acquistare il filato o comunque tutti i punti di riferimento poi io vi lascerò nel sotto al tutorial dove andate diretti nella merceria nella merceria flavia quindi vi auguro una buona serata e noi ci vediamo al prossimo video